Alcuni ci hanno provato, hanno rialzato la saracinesca per tentare di riaprire, ma davanti a zero clienti, fatturati crollati e spese immutate, hanno deciso di richiudere. Perché se è vero che i lunghi mesi di lockdown per proprietari di bar e ristoranti sono stati difficilissimi, i problemi non sono di certo spariti con il graduale ritorno alla normalità. E a soffrire di più sono le attività dei centri storici fermi a causa dell'assenza del turismo. Ormai il calo continuerà ad essere generalizzato, a prescindere dalle attività legate al turismo e quindi all'assenza, come ben sappiamo, di turisti stranieri legata prima a nazioni come Brasile, Stati Uniti e Cinesi. Oggi anche gli europei, abbiamo visto alcune regioni d'Italia che hanno previsto i tamponi in arrivo e alcune altre prevederanno la quarantena, quindi si azzererà il turismo europeo. Io ieri sera sono andato a fare, non me ne vergogno, una consegna in motorino in via della Chiesa, in centro. Vieno, oltrarno. Oltrarno e mi sono fermato dieci minuti a fare una passeggiata, a controllare, volevo vedere com'era la situazione nei vari ristoranti. Erano tutti vuoti alle otto. Un caldo che sfiora l'80% degli incassi, diverso il caso dei locali che lavorano fuori dal centro storico, i quali denunciano una riduzione che non supera il 40%. All'80% delle imprese ha fatto ricorso alla cassa integrazione, mentre il 10% dei ristoranti non ha ancora riaperto. Sempre il 10%, dopo aver riaperto a maggio, ha deciso di chiudere in quanto le uscite superano le entrate e solo il 13% delle aziende ha ottenuto gli aiuti sopra i 25.000 euro. Per quanto riguarda gli incassi, il 50% degli imprenditori ha registrato perdite tra il 50% e l'80%. Il 30% ha perso invece più del 40% e solo il 20% meno del 40%. Sei imprenditori su 10 non hanno modificato giorni e orari, gli altri invece hanno deciso di rimanere chiusi o a pranzo o a cena, a seconda del luogo in cui si trovano. Questi sono i numeri che emergono da un sondaggio dell'Associazione Ristoratori Toscana, gruppo che rappresenta 1.000 imprenditori a Firenze e 15.000 in Toscana.